Tutto pronto a Silvi per la Coppa Belvedere in programma domenica 29 maggio, la competizione motoristica che dal 1962 raccolse il testimone del Gran Premio di Formula 1 sul circuito di Pescara. Ovviamente si tratterà di una rievocazione storica, evento organizzato dal Scuderia Ferrari Club col patrocinio dei comuni di Silvi e Atri, numerosi gli appassionati coinvolti che porteranno tra le vie dei due comuni macchine d'epoca e vari modelli Ferrari. Sarà una bellissima giornata, una manifestazione di interesse, si partirà da Silvi dal complesso Le Dune per toccare poi con le auto storiche, le Ferrari storiche, il Belvedere di Silvi Alta e poi proseguire per Atri e ritorno poi a Silvi. Dunque sarà una bellissima giornata soprattutto da ammirare queste auto storiche, un ricordo alla Coppa Belvedere di grande tradizione che ha toccato il tessuto abruzzese. Lo facciamo partire da Silvi e soprattutto poi tornerà a Silvi con la possibilità ai tanti tifosi e spettatori di vedere queste bellissime auto storiche sul nostro territorio. Manca solamente l'invito? L'invito lo facciamo noi e lo facciamo a tutti di essere presenti, di partecipare e di venire ad apprezzare veramente la bellezza di queste auto e soprattutto nel nostro territorio. Anfrago D'Alesio, tutto pronto per questa importante rievocazione storica? Quante saranno le macchine che parteciperanno? Sicuramente sono quattro regioni, Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio sicuro e anche il Molise. Quindi le macchine ce ne abbiamo già, adesso dobbiamo fare l'elenco però ce ne sono a sufficienza e noi siamo quelli ufficiali. Praticamente il nostro evento è un evento ufficiale Ferrari di Maranello. Questa è la sesta edizione della Coppa Belvedere che nel 62 fu fatta a Città Sant'Angelo. Questa volta facciamo Silvi-Atri che è un percorso bellissimo, adatto alle nostre macchine e poi c'è un po' di cultura perché la città di Silvi e la città di Atri, sia Silvi Marina che Silvi Paese, sono tre centri bellissimi.